Sono un esso romano prima di tutto. Nella vita ho fatto tantissime cose, da lavorare come dipendente, a lavorare come imprenditore, a lavorare come libro professionista, a lavorare come assistente, cioè ne ho fatte davvero tante. In questi anni, negli ultimi 14 anni di vita, dove ho iniziato a lavorare professionalmente, quindi ho fatto varie fasi prima di sbarcare oggi in quello che è la professione di coach, counselor, mentor, chiamolo come vuoi, Cioè qualcuno che si occupa della, prendersi cura dell'umano che c'è dietro i libri professionisti e gli piccoli imprenditori. E quello che faccio oggi io è proprio questo. Perché lo sto facendo? Perché negli anni io mi sono reso conto di aver fatto così tante cose diverse, così tanti corsi, così tante formazioni, che poi alla fine non mi portavano ad agire verso qualcosa di sicuro, o comunque qualcosa da fare. Mi lasciavano sempre con il dubbio che forse non sono pronto. Lì allora ho lavorato molto sugli aspetti che erano gli aspetti personali su di me, la mia autostima, il mio modo di vedermi, quello che sono, che cosa vorrei essere, che cosa vorrei trasformarmi. E più volte le ho lavorate queste cose, le ho trasformate, più cambiate e lasciate. Perché? Perché non ero stato in grado di metterle in pratica. Quindi ho capito che una cosa che bisogna fare, prima di tutto, nella vita, quando si vuole realizzare qualcosa, è mettere subito in pratica quello che si sta o che si vuole realizzare e metterci la faccia in questo. Cioè, non stare più lì a pensare chissà cosa pensano gli altri. Fottitene. Fottitindi, come dico io, questo è il mio motto. Fallo e basta. Perché quel fare, quel modo di fare le cose, in quel modo, e raggiungere quel feedback dalla parte delle persone che vedono quello che stai facendo, ti permetterà di migliorare e ti permetterà anche a te stesso di credere in quello che stai facendo, oppure non credere e cambiare. Ma almeno l'avrete stato. Non resterà lì. Non potrei dire che non l'hai realizzato. Non ci hai provato. L'hai provato. Magari non ti è piaciuto, come è stato portato avanti, e lo puoi sempre cambiare. Ma stare nel dubbio che quella cosa lì poteva andare o non poteva andare per anni è un disastro. È completamente un disastro. Ma tutto ciò succede perché siamo nati, magari, in un momento di vita in cui, o comunque in un contesto di vita in cui non ci siamo sentiti, supportati, apprezzati, amati abbastanza. E quindi tante cose ci siamo un po' lasciati andare nelle nostre idee, ma nella praticità poi, nell'esporsi, nell'uscire fuori, a livello pragmatico, nel fare le cose, non l'abbiamo realizzato. Perché avevamo paura del giudizio altrui, di non sentirci ancora abbastanza, della paura di essere un impostore. Quindi di avere quella sindrome di dire cose che non servono, o comunque non essere funzionale, e che non siamo preparati abbastanza. E quindi sempre con quella insicurezza di sé. Tutte queste cose qui, io, in questo percorso che ho ideato per freelancer, per i professionisti, per i piccoli imprenditori che vogliono avviare il proprio progetto senza restare lì bloccati, l'ho creato apposta per evitare tutto ciò che a me ha bloccato in questi anni. E che mi ha fatto lavorare però per conto di altri, o per insieme ad altri, ma mai sul mio progetto di vita. E che invece oggi sto realizzando, e sono contentissimo di questo, perché finalmente mi sono dedicato a quello che è il mio progetto. E quello che vuoi realizzare tu, sono sicuro, molto probabilmente, è il tuo progetto di vita. Che ce l'hai lì, nascosto, in qualche cassetto della tua mente, e non lo tiri fuori per le paure, per i timori, per i dubbi. E per quella maledetta, per quella maledetta sensazione di non essere all'altezza. Smetti di pensare di non essere all'altezza, perché qualcosa hai già in mano di potente da mettere a servizio della vita, e per conto di qualcuno, puoi essere utile in questa vita. Devi solo, semplicemente, vederlo. E per vederlo bisogna partire all'azione. Io ti aiuto a fare questo, in un metodo subito e veloce, breve, per capirlo, per comprenderlo. Per cambiare quel mindset, e vedere le cose da un altro punto di vista come prima non ti immaginavi. Ma per fare questo bisogna un po' esplorare e conoscere se stessi. Se sei pronto a farlo, io sono pronto anche ad ascoltarti. Quindi, sono qui. Ciao.